Mentre stavo uscendo da casa ho visto i ragazzi binario 12, scusate che ho detto binario 2 Ho fatto un po' 30 secondi penso di video e lo vedrete Adesso vado a cena e vi faccio vedere cosa mangiamo Ecco qua, ecco qua ragazzi, come stiamo insieme lo stesso Ecco qua binario 2 Ciao a tutti La signora è nell'acqua, sua moglie binario 12 Si, vamos Io ho sentito gli italiani però poi dopo non ho capito più Ciao, buonasera, 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 buonasera Ciao ragazzi, ciao, è stato bello Ciao ragazzi Mi sto incamminando per andare alla vela E guardate un po' quanta gente c'è alle 8 di sera Mi stava cadendo il telefono col vento Perfetto Sono arrivato alla vela Ancora non entro praticamente però sono qua qua C'è la vela, ora ve lo faccio vedere da dentro Vedete quanta gente c'è? Guardate che confusione che c'è guardate, 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 guardate Guardate, 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 guardate che confusione che c'è Tutti, questi quattro locali vicino funzionano tutti Siamo dentro alla vela Siamo quasi pronti Questa è la vela C'è confusione, vedete quanta gente, poi piano piano vi faccio vedere, piano piano Adesso ci vediamo, a dopo È da ottobre Abbiamo un bel tavolo da dieci L'avete fatto benissimo L'avete fatto benissimo Giancarlo e la moglie Mi spiace Mi spiace molto per i primi anni No Invece non ti viene Ecco qua, ecco qua ragazzi Come stiamo insieme lo stesso Ecco qua binario 2 Ciao a tutti La signora è nell'acqua Sua moglie Binario 12 Si, vamos Io ho sentito gli italiani Però poi dopo non ho capito più Questi sono pomodori di pieni E in poltini di, non lo so di che cosa Ma sono in poltini E pomodori di pieni Non lo so E qua l'insalata Di gamberi, pomodoro, lattuga e via Questo è l'antipasto Iniziamo ragazzi Con dieci euro Prima bibita Compresa la bibita Guardate come mangiano i signori e le signore Buon appetito a noi Buon appetito a voi Cora mi firmi? Ma basta Non sto fermando a voi Sto fermando i piatti Non sto fermando i piatti Non sto fermando i piatti Sorridi Miriam Sì sì È arrivato il primo Sono penne con panna Zucchini Pomodorini Non l'ho provato ancora Ma quello Questo è il primo Quindi come va ragazzi Questa cosa che conosce amico È una diretta È una scarca di insulti Vediamo se lo carica Sta andando bene Sì Mario Sì 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 Salutiamo gli amici del canale Sì 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 Salutiamo gli amici del canale Dimmi Salutiamo Gli amici del canale Grazie Ciao 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 Mi raccomando iscrivetevi Ciao Ciccio Ciao Ci pensano i miei amici Binario 12 Bravo Patatine Ciccio è la pancetta Il secondo è bocconcini di coppa e patatine Ciccio è la pancetta È la pancetta Ciccio Sì Grazie Sì 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 Questo è Francesco Hai capito senso? L'11 se ne va e mi massacrerà tutti i giorni e mi chiamerà Ogni tre ore ti fanno una telefonata E poi partiamo Tre, due, una, vaffanculo No ragazzi non so di stare io non dico niente Sono rimaste poca gente però qualcosa ancora c'è Lo stiamo aspettando il dolce e dopo finisce la cena Vedete? Vediamo un po' di mare Non si vede tanto bene comunque Vedete ragazzi? Ecco qua Niente sto aspettando che arrivi il dolce Questa è la gente che c'è fuori stiamo aspettando tutti il dolce praticamente e dopo il dolce ragazzi vediamo, vi manderò il video non c'è nessuno è tutto ciancolato e ricotta questo è il dolce proprio Amoro finisce la vita con questo dolce ragazzi la cena è servita praticamente chi vuole il caffè dopo si prende il caffè tutto a 10 euro compresa una pipita con questo video chiudo anche questa sera vi ringrazio a tutti, agli iscritti e a quelli che si stanno scrivendo buona serata a tutti grazie